Posso non sottolineare la soddisfazione di aver fortemente contribuito, tra l'altro producendo ulteriori ricadute positive in termini di finanziamento per opere pubbliche di risarcimento ambientale del Comune di Pescara, di Cepagatti e di tutti i comuni che sono oggetto dell'attraversamento del collegamento elettrico a questa infrastruttura magnifica che basta vederla per capirne l'importanza. E mi fa particolarmente piacere ovviamente che torni il Presidente Mattarella in Abruzzo e che torni per inaugurare quest'opera che è l'esempio che le grandi infrastrutture di questa nazione sono necessarie, che servono per far diventare l'Abruzzo e l'Italia più moderne e che grandi opere si possono realizzare senza che vi siano strascichi giudiziari e cercando anche la condivisione con i comuni così come è avvenuta per l'opera che oggi il Presidente della Repubblica inaugurerà realizzata dalla Terna S.P.A. Grazie